Sì? Oh, bello, come stai? In ufficio? Ah sì, ne hai sentito parlare? RobinGooTV E... E ho iniziato a trasmettere in diretta sul web Su www.RobinGooTV.tv Sabato, per esempio, a Genova c'è lo Zenacamp Se tu vorresti seguire questo evento Ma non hai il tempo e i soldi per andare fino a Genova Puoi accendere il tuo computer, sintonizzarti su RobinGooTV.tv E vedermi in diretta tutto il tempo Che trasmetto interviste, reportage su quello che sta succedendo lì Se ci vai ora sul sito Se vai ora sul sito mi trovi a me in ufficio Qui che sto lavorando, no? Sì, puoi vedere tutte le proprie tecniche di trasmissione Puoi anche intervenire C'è una finestra di chat Dove puoi mettere delle domande Darmi dei consigli Insomma, c'è anche interattività con chi ci segue Oh, senti, ma perché non mi sponsorizzi? Eh, guarda, lì c'è un bottone C'è un email, penso, dovrebbe apparire fra poco Perché io sono tutto sponsorizzabile, eh? Ok, ti aspetto Fatti sentire, ciao Che tipo